Ciao ragazzi, sono in una delle società sportive della rete solidale di Sport Senza Frontiere, l'associazione che aiuta tanti bambini a divertirsi attraverso il movimento. E non vedo l'ora di incontrare Vanessa Ferrari, la campionessa italiana, europea e del mondo di ginnastica artistica. Sono sicuro che ci divertiremo. In perfetto stile divertiamoci a stare bene. Il programma di Disney Italia che trasmette l'importanza di muoversi, divertirsi e mangiare in maniera equilibrata. Vanessa, hai voglia di dare qualche consiglio a queste bravissime atlete? Loro vorrebbero diventare tutte come te, ma l'importante è divertirsi e muoversi. E questo è il bello dello sport. Certo Leonardo, questo è il bello dello sport. Vero ragazze? Sì! Per eseguire acrobazie bisogna essere molto concentrati. Ci sono tanti movimenti da coordinare, ci vuole resistenza fisica e tanto esercizio. Ma una cosa è certa, lo sport fa bene a tutto. Forza allora, andiamo a divertirci.